Atti nulli nell'ambito del piano di rientro dal deficit sanitario chiesta la revoca del commissariamento di Scopelliti. E' questa l'ultima iniziativa del Comitato Civico in difesa dell'ospedale di Praia Mare. Nella giornata di oggi l'Associazione ha inviato una missiva a rappresentanti delle istituzioni nazionali. Della questione sono stati investiti i Ministeri per gli Affari Regionali e della Salute, oltre che la sezione giurisdizionale per la Calabria della Procura Generale presso la Corte dei Conti, le commissioni parlamentari sulla sanità, il tavolo massicce e le procure di Catanzaro e Cosenza. Secondo il Comitato Scopelliti non avrebbe potuto provvedere a nominare in qualità di commissario ad acta gli organi di gestione delle aziende sanitarie e ospedaliere, in quanto non tra gli obiettivi indicati dalla nomina del Consiglio dei Ministri, ed essendo invece prerogativa della Giunta della Regione Calabria. Dunque sostiene il Comitato quelle nomine sono nulle e con esse tutti gli atti adottati dagli stessi direttori generali. Tra questi le deliberazioni del direttore ASP della provincia di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, perché scrivono dal Comitato, prive del parere obbligatorio del direttore sanitario aziendale. Inoltre proseguono le nomine dei direttori sanitario e amministrativo potrebbero essere illegittime per mancanza dei requisiti necessari. Gli atti aziendali di riordino della rete ospedaliera sarebbero inoltre nulli perché il tavolo massicci non avrebbe approvato formalmente le linee guida predisposte dalla struttura commissariale e non sarebbero ancora stati emanati i relativi regolamenti attuativi. Infine, conclude il Comitato, i bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere non sono stati certificati e la verifica sulla garanzia dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, non è stata eseguita a fronte di una capacità ricettiva certificata insufficiente dal Ministero della Salute. Per tutte queste presunte irregolarità, dunque, il Comitato in difesa dell'ospedale di Praia Mare ha chiesto agli organi preposti la revoca del mandato di commissario d'acta per scopelliti e una verifica sulle stesse, oltre che sulla disparità di trattamento da parte del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle impugnazioni davanti alla Corte Costituzionale dei piani di rientro delle regioni Abruzzo e Campania.